Nella nostra regione il rapporto con la medicina generale è stato un rapporto diciamo studiato a lungo e un rapporto che si è concretizzato in un documento che è stato concordato assieme ai medici di medicina generale, tra diabetologi e medici di medicina generale, ai team della diabetologia della regione, un documento che è stato deliberato dalla nostra regione nel 2015 e che in qualche modo declina il percorso del paziente, in questo caso per ora del paziente affetto da diabete di tipo 2, nella collaborazione, nella integrazione tra gli specialisti e i medici di medicina generale. Questo documento che è un documento che dovrà essere attuato nel prossimo futuro, attualmente ha portato a un salto di qualità molto importante nella nostra regione, che è stato quello di definire innanzitutto alcuni indicatori, alcuni indicatori sui quali misurare evidentemente il livello di assistenza che in questo momento la nostra regione sta fornendo, offrendo ai pazienti affetti da diabete di tipo 2. La cosa importante, il salto di qualità rispetto a prima è che questi indicatori sono parte dell'accordo integrativo con la medicina generale, quindi hanno avuto una loro strutturazione anche di tipo economico, perché è noto che l'assistenza integrata è funzionata e funziona laddove c'è una integrazione anche con aspetti economici, questo è imprescindibile e questo nella nostra regione non era mai accaduto prima e quindi sostanzialmente in questo momento i medici di medicina generale hanno un riferimento preciso che è l'elenco dei pazienti che loro seguono, sui quali vengono misurati in base a 5 indicatori che sono stati scelti, cioè in sostanza ogni medico di medicina generale deve valutare se tra i suoi pazienti quanti sono coloro che hanno fatto almeno un'emoglobina glicata all'anno, almeno un assetto lipidico, almeno una valutazione della funzione renale e almeno un fundus dell'occhio, appunto elemento fondamentale per il monitoraggio di una complicanza come la retinopatia diabetica, ogni due anni. E' molto interessante questo perché obbliga evidentemente i medici di medicina generale a confrontarsi con la propria realtà, non sono stati da parte della regione chiesti dei target precisi, ma si richiede un miglioramento rispetto ai dati rilevati l'anno precedente. Questo ha aperto sul fronte culturale un altro aspetto importantissimo perché a margine della realizzazione di questo documento tutta la regione ha avviato dei corsi specifici che hanno coinvolti tutta la medicina generale e quindi c'è stato un modo di omogenizzare a partire dal marzo dello scorso anno, praticamente culturalmente rendere i messaggi e le condivisioni anche dal punto di vista degli obiettivi e delle conoscenze cliniche, rendere più omogenea possibile in regione l'assistenza al paziente diabetico che in regione vede più di 80.000 pazienti affetti con una prevalenza che è attorno al 6,3% della popolazione, che non accede nella sua totalità ovviamente ai servizi, nella sua complessità, circa sappiamo che il 50% per esempio dei nostri pazienti sono seguiti dalla medicina generale, quindi è imprescindibile un salto da questo punto di vista che mette i medici di medicina generale in condizione di collaborare in maniera ottimale con gli specialisti.